Disaggiano, c'era inferiore per i continui blackout che stanno interessando buona parte della città. Questa mattina, dopo una notte al buio, le squadre dell'Enel hanno provveduto ad installare alcuni gruppi elettrogeni al fine di effettuare i lavori senza arrecare problemi alla cittadinanza. Una volta rimessi in funzione gli apparecchi elettrici di bar, negozi ed uffici, però, i gruppi elettrogeni si sono bloccati, causando un nuovo blackout. Bilancio della mattinata, banche e uffici postali chiusi, municipio non operativo e bar e supermercati costretti a noleggiare gruppi elettrogeni per far fronte all'emergenza.